Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia il tuo cuore, e con il tuo Spirito, benedici il Padre. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie. 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 Il Signore sia con voi, e con il tuo Spirito, in alto i nostri cuori, e con il tuo Spirito, benedici il Padre. Grazie. 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 le stie antiche, oggi per noi si afferano in Cristo. E' il suo suo nome, il suo nome. Ecco in questa notte verata, la colonna di fuoco rispette, e viva i veneti alle varie che danno salvezza. Qui si immerge il panico e via fuoco, ma il cuore del Signore salva e libero e risale. Per l'anno, siamo nati alla morte, ora, generati dall'acqua, dallo Spirito Santo, per Cristo rinasciato alla vita. Giugnato il nostro colonnaio di giugno, Cristo, nostro agnello passuale, viene incontrato per noi. Il suo corpo è come il tetto vitale, il suo sangue e liberante le manda, l'unico sangue e l'unica vita, allora salvezza e mortale a chi lo riceve. «Santane, e mortale a chi lo riceve». «Santane, e mortale a chi lo riceve» Questo pane è disceso dal cielo, pane è rassai della panna, mi occupa dall'alto come te con la bruciata, essa stava in strade, la nostra tappa parola non è. Invece questo corpo si ci va, conquista la vita pereree. Ecco l'antico e l'antico racconta Tutto per noi diventa nuovo Il popolo di Cristo, segnato al Cristo, riceve un vattesimo sacro. Questa morte vogliamo attendere in regna Che il nostro salvatore risolva Vediamo dunque le fiamme le mancese Come fecerò le regini pudenti In un gioco potrebbe attardare L'incontro col Signore che viene Certamente verrà il Padre vicino Come l'alto improvviso che guinza Da un estremo annato del cielo Lo svolgersi di questa bella santa Tutto abbraccia il mistero della nostra salvezza Nella mancina forza Nella mancina notte Si avverano rianunzi e fatti profedici Di mani indenni Come hai pagina la stella A noi si fa prima bella notte La grande luce di Cristo risorbo E il sacerdote, con la vostra rica voce, oggi a cui provare. E come l'onda, gente del Giardano, consagrata dal Signore in verso, E come l'onda, gente del Giardano, consagrata dal Signore in verso, Per le preghiere dei miei distanti di approccio, Sacerdote suo e del simbolo suo, La credenza del Padre Celeste, Fuggituta nel forno del Signore di sopra, La credenza del Giardano, La credenza del Giardano, consagrata dal Signore, 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 Grazie. Con nove letture, la liturgia questa notte ci conduce a comprendere lo spessore della Pasqua, le sue radici, fin dalla creazione e nella storia dell'antico popolo veneto. Ma oltre alla sua storia, la Pasqua ha anche un presente e un futuro. È il tempo dell'alleanza, il tempo dell'abbraccio, il tempo della vittoria, l'esplosione della vita. Percorriamo con le letture il cammino della storia della nostra santezza. Grazie.